Intersezione di un cono con un cilindro orizzontale Disegna le proiezioni ortogonali dei contorni dei due solidi, con assi incidenti e ortogonali. Disegna sui piani verticale e laterale le tracce dei piani ausiliari che attraversano cono e cilindro. Dai punti di intersezione tra la generatrice di primo a primo del cono e le tracce dei piani ausiliari, ricava le relative circonferenze ausiliarie nel piano orizzontale. Dal piano laterale, proietta i punti di intersezione tra la circonferenza e i piani ausiliari sul piano orizzontale, fino a intersecare le corrispondenti circonferenze ausiliarie. Dai punti a primo ed e primo, nel piano verticale, traccia linee parallele all'asse z per trovare i punti a secondo e e secondo. Nel piano orizzontale, unisci con un curve di linee i punti trovati per disegnare le linee di intersezione tra i due solidi. Dai punti individuati sul piano orizzontale, traccia verso il piano verticale linee parallele all'asse z, che, intersecate con le tracce dei piani ausiliari, determinano i punti di intersezione tra i due solidi. Con un curvilinee, ora puoi tracciare la linea di intersezione. Con un curvilinee, ora puoi tracciare la linea di intersezione tra i due solidi. Grazie a tutti